Lifetime Dimmelo con un Genome vorrei che ti schiacciassi un pane No, 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 garo Che si sta Non è un male, può sempre tornare a tirine card di uno, ce n'è un altro State zitti che ce n'è un altro qua Oh, Warden con l'arma di... con la troia di Valkyrie è impressionante Come, come? Come, come? Be', sei morto! Ma... No No Ok 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 Oltimo nemico, preparo gli aculei Lancio l'esca Ah stupido Ricarico Vai ai ai che male da qui Ma qui viene? A o Piazzuna Claymore Ricarico Attivo un'escazione Toppitemi! Ricarico! Dado il controllo se c'è dentro qualcuno Eh sono Jager dentro Eh, ne piu troppo ve l'ho fatta No, l'ho fatta, l'ho fatta assoluto Scusa 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 Io per sbaglio Scusa Entri Vai Vai un altro Vai un altro Vai un altro Vai un altro Vaffanculo Fai Jager di merda Scusa Io per sbagliare Scusa 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 Sei in una zona controllata dal nemico Nuovo caricatore! Preso Tossine pronte! Da sopra è pulito ragazzi! Pronto a ringagio! Non sopra, non sopra, non sopra! 15 secondi ultimo nemico rimasto il tempo scade tra dieci secondi ancora 5 secondi no o comunque alibi è uno dei miei main non c'è un cazzo da fare non piace mi direi ma che si sopra arriviamo se alibi avvenuto farò che faccio le sono al contrario è un'altra cosa non è capito proteggete le bombe è un po' di me vedi vedi per esempio qua mira potrebbe essere up vedi ma qua stai spandone ora cioè qua è una cosa da prendere però l'abbiamo niente gioco lasso nella manica vedi niente vedi niente ma per il tuo rom vedi vedi guarda che i droni buono non so devo ricaricare ma lo si può prenderli non so non so non so non so non so alla porticina di qua c'era già quella puttana finca c'è anche a nomad in due da me in due da me una destra e una sinistra uno andato buono bella bella non ce l'aveva il defuser tuttana da squagliata mamma mia non c'è una cazzo di botola qua intorno non c'è una cazzo di botola ma se ce l'ho mai scoprirà è veramente schifo che abbiamo tre attacchi e tre difese non lo so a me piace la fase alterna non c'è una cazzo di botola ma ciao bella bambina metti qua la crema il cretino dai qua c'è la botola sopra di te via vedete che arriva il catcher porco 2 hai perso il disinnescatore carica innescata no non c'è sulle scale carico il dardo carico c'è un laser maggi occhio mi sono visto guarda che ammiglia vado il 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 ma la gara abbiamo giocato proprio un tot bene non è non ha fatto un cazzo non è che vabbè se devo giocare bene io per vincere la vita no cane ma il posto cambio caricatore c'è anche un altro dov'è sto ricaricando hai fatto fu si ok ce n'è un altro in fondo a qua sopra ma tu hai la capacità di bussare proprio quando mi stanno a fare squadra d'attacco eliminata missione completata oh non c'è un cazzo da fare alibi it's my main alibi it's my main ma chi è ucciso mattie? ormai beeeella oh termite col diffuser no scusa mountain col diffuser nuovo caricatore paolo è che è ucciso? diffuser qua davanti a te c'è il diffuser paolo ok puntalo si si sta sotto a montagna si 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 ultimo attaccante rimasto in vita piazzo il mio amico nooo scusa paolo scusa non bevi in altro scusa paolo buono i difensori hanno eliminato tutti i nemici ultimo attaccante rimasto in vita quest'ora vedi col tashanka è qua da me, è qua da me, occhio no, fermo, 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 no ma chi ci va? ha fatto la finta, ha fatto la finta, non è uscito veramente sta qua fuori da me restano 15 secondi mancano 10 secondi, squadra d'attacco eliminata bello acqua sentita che entra acqua ok 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 ok